io resisto, poi dopo questo deve essere uno dei nuovi eh, ancora da verniciare, guarda che bello no, ma secondo me lo lascia anche così, guarda no, no dobbiamo ancora verniciare direi che è un boeing a occhio no, no, l'ho verniciare, l'ho verniciare è che ancora non l'hanno verniciare la propria